Grazie alla formazione che la The Banfield ha fatto a tutti i dipendenti dei supermercati di Trieste e di questa catena, sappiamo che in ognuno di questi punti vendita ci sia un personale che è in grado di aiutare, consigliare, affiancare laddove sia necessario. Si tratta del progetto Carrelli Gentili promosso dall'associazione The Banfield insieme a Coop Alleanza 3.0. Carrelli della spesa dedicati alle persone anziane fragili, non solo, pensati per una spesa lente, per ricevere eventualmente assistenza dal personale del loro supermercato Coop di fiducia. Il principio guida è che tutti possono fare qualcosa per migliorare la vita delle persone con demenza e delle loro famiglie. La formazione ha interessato 88 dipendenti di Coop Alleanza 3.0 della provincia di Trieste. Significa con questo far sì attraverso piccoli momenti, piccoli spazi, costruire un mondo più accogliente, una comunità accogliente e amica dei malati di demenza. Il carrello gentile significa avere la possibilità, in un momento importante come quello di fare la spesa, che è uno degli ultimi momenti in cui autonomamente un anziano con demenza riesce ad essere autonomo, di poter affrontare questo momento con persone preparate, caso mai, a dargli una mano, con tranquillità e con serenità, facendo capire anche agli altri le esigenze che può avere una persona ammalata di queste malattie.